carissimi fratelli e sorelle gioia e pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore che da sempre illumina la chiesa il signor tutti i giorni come manda il sole manifesta la sua grazia ad ogni creatura sulla terra e ieri abbiamo ricordato san francesco diceva ai suoi frati voglio mandarvi tutti in paradiso ma non solo i frati volevo che tutto il popolo di dio e lui ottenne dalla chiesa l'indulgenza plenaria la remissione di tutti i peccati di tutte le pene anche quelle gravi perché gli uomini si avvicinassero alla misericordia di dio tornassero tutti a lui vedere come san francesco non pensava a se stesso non chiedeva nulla per se stesso chiedeva tutto per la salvezza degli uomini e la sua passione era gesù cristo e portani portare anime a gesù cristo voglio che andiate tutti in paradiso e san francesco fu chiamato dal signore fratelli a rinnovare la chiesa ma a rinnovarla non nelle sue istituzioni a rinnovarla nel suo spirito nella sua anima a portare la santità della vita a portare lo spirito santo a portare la comunione d'amore a portare gesù alle anime questa era la sua passione per questo la prima cosa che lui scelse sotto ispirazione fu lo spirito di povertà nel distacco dalle opere delle cose della terra perché perché la ricchezza porta l'avarizia la ricchezza porta l'idolatria il mondo perché si è ridotto come adesso perché la base c'è la ricerca della ricchezza del potere della gloria da parte di alcuni anche asservendo tutto il resto dell'umanità san francesco ripudiò tutto questo si ridusse uno stato di estrema povertà gli bastava chiedere un po delle mostre un po di pane secco al giorno per vivere perché per lui di vivere era gesù cristo vivere l'amore di gesù vivere la salvezza di suoi fratelli ricordate le parole che disse gesù santa maria madrina dei pazzi quando nel 1585 la chiamò a promuovere la chiesa il rinnovamento dicendole se fu grande la redenzione ancora più grande sarà la rinnovazione cioè il rinnovamento della chiesa tutta la chiesa deve essere rigenerata rinnovata la chiesa è fatta di uomini e quindi è facile che si introducono anche degli inganni che si introducono delle deviazioni dovunque ci sono persone umane lì ci sono debolezze e san francesco si dedicò a promuovere la chiesa il distacco dai beni della terra e questo distacco portato per tanti secoli qui nella chiesa un rinnovamento spirituale facendo di ogni convento un centro di radiazione spirituale e cosa chiese gesù santa maria madrina dei pazzi di promuovere la chiesa il rinnovamento prima di tutto diceva rimozione della ricchezza quello che sta facendo proprio francesco non ne siete accorti e proprio francesco ha preso proprio quel nome di francesco non per ingannare ma ben dure tutti i cristiani a camminare con la via della semplicità la via della povertà morale spirituale ma anche materiale la chiesa deve confidare nella potenza di dio non nella potenza dei mezzi satana ci fa confidare la potenza degli strumenti mediatici che mediatici che abbiamo oggi a disposizione dio fa grandi cose anche senza telefonino cari fratelli nella comunione dei santi dio spande granzi anche l'altra parte del mondo lo diciamo oggi nella prima lettura della messa mosè che si ginocchia davanti a dio invoca o salvezza per il suo popolo non aveva mezzi per i whatsapp da mandare a tutti ma aveva una potenza di spirito dentro per cambiare i cuori delle persone ecco prima cosa rimozione della ricchezza secondo luogo la rimozione della sensualità la corruzione dei sensi e degli affetti dove c'è questo fratelli non c'è preghiera se voi vedete le chiese vuote chiedetevi come vive la gente se il cuore è puro in chiesa ci si entra ma se il cuore non è puro si fa fatica se non si prega non è perché non c'è tempo ma perché il cuore è dedicato ad altre cose turbato e disordinato ricordiamocelo quando tu un padre madre vede tuo figlio atteggiarsi in certi modi sempre che il suo cuore è in difficoltà aiutalo aiuta a perseguire la purezza di sentimenti terzo adesso chiesa santa maria maddalena dei pazzi la fedeltà ai voti fedeltà ai voti quali voti 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 religiosi le voti sacerdotali voti matrimoniali fedeltà vedete ai nostri giorni l'infedeltà pare che sia una morte quasi un dovere ma come dopo vent'anni matrimonio stai ancora con la stessa donna stai ancora con lo stesso marito ma come non ti sei permesso ancora nessuna deviazione ma chi ti ha insegnato a tutto questo è un inganno enorme frate l'amore vuole fedeltà la fedeltà è l'anima dell'amore dove non c'è fedeltà non c'è amore come dove non c'è fedeltà a Dio non c'è amore per Dio non sono gli atteggiamenti esteriori che ci avvicinano a lui ma anche gli atteggiamenti tra di noi quando non sono autentici non permettono l'amore l'amore vuole fedeltà vuole la sincerità ecco san francesco promosse tutto questo nella chiesa e oggi la chiesa ci mette davanti un altro grande santo santa alfonso maria degli cuori e lui di una giovane grande avvocato di successo ma poi vide la corruzione che c'era anche nella giustizia di allora lascia tutto di un sacerdote predicatore e lei rappresa dalla passione di portare gesù alle animi promuoveva i cenacoli di preghiera nei rioni della città promuoveva corsi per evangelizzare il popolo e fonda anche una congregazione quella dei redentoristi che aveva lo scopo quello di istruire la povera gente pensate un po' quando sant'alfonso maria dei cuori fu nominato vescovo di sant'agra dei goti quella aveva una diocesi di 40 mila abitanti dove c'erano 400 preti quindi un sacerdote ogni 100 persone eppure la gente si trova in uno stato di totale ignoranza spirituale degradazione e via dicendo e lui si dedicò a promuovere la rinascita del popolo dando lo spirito di dio insegnando anche quello che la via è dalla santità e ha promosso in tutta la chiesa nelle scuole di teologia nell'università l'approfondimento della vita spirituale e la crescita nell'amore per gesù vedete fratelli come la chiesa è sempre stata animata da anime sante che hanno portato nella chiesa stessa la spiritualità la conoscenza di gesù cristo e oggi fratelli noi siamo chiamati tutte lasciarci rinnovare ieri nella lettura della messa abbiamo letto alla seconda lettura san paolo di efesini deponete l'uomo vecchio rivestitevi dell'uomo nuovo secondo cristo l'uomo vecchio l'uomo carnale corrotto sensuale arrogante e via dicendo l'uomo nuovo è gesù che dà la vita per salvarti così anche voi amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi sia voi sarete santi perché io il signore vostro dio sono santo ecco la chiamata imperlente ai nostri giorni siamo soffrendo attraversando periodi difficili ci informiamo sull'andamento della pandemia e via dicendo fratelli affrettiamoci invece a cercare la santità di vita a cercare l'uomo nuovo che l'uomo vecchio non sopravviverà l'uomo nuovo creato secondo cristo questa è la chiamata che tutti abbiamo e la chiamata che ha tutta la chiesa e un giorno quando noi compareremo davanti al padre lui si rallegreranno di vedere le anime che gli abbiamo portato i figli dispersi che gli abbiamo ricondotti attraverso una vita di carità di amore fraterno questa è la nostra ricchezza e quale sarà anche la nostra gloria di come dice san giovanni della croce saremmo giudicati da con da quanto abbiamo amato però diamoci da fare perciò diamoci da fare per accogliere il gesù cristo nella nostra vita e gesù è quel pane vivo disceso dal cielo quel pane di cui l'uomo ha bisogno lo stomaco si nutre di di cibo la mente si nutre di pensieri di teoria il cuore si nutre di cristo il cuore dell'uomo si nutre di spirito santo e l'alimento sono io il pane vivo disceso dal cielo perciò chi ne mangia non muore chi mangia di me vivrà per me ecco fratelli l'invito che il signore ci fa in questo periodo a promuovere questo rinnovamento interiore a tornare a lui non hai tempo per pregare più spenni televisore anche se sono le olimpie il tempo trovi subito vedi di eliminare una chiacchiera volevo fare un pettegolezzo rinunciaci e ti salta subito fuori il tempo per pregare anche il tempo per andare incontro al tuo fratello non si tratta di trovare tempo si tratta di impiegarlo in modo diverso di spendere di meno per cose futili materiali passeggeri per destare invece più tempo con dio come faceva san francesco che faceva sette quaresime all'anno sette quaresime all'anno la quaresima di 40 giorni 7 per 4 28 280 giorni su 365 lui spendeva in penitenza e preghiere ma visto quale potenza di spirito santa portata sulla terra e nella chiesa signore gesù tu vuoi rinomare tutta l'umanità eccoci davanti a te oggi rinnovaci col tuo spirito di potenza e di grazia liberaci dalla idolatria della ricchezza liberaci dalla idolatria della sensualità che oggi sta permeando l'umanità intera cominciando dai bambini dai ragazzi educati non all'amore ma all'egoismo all'appagamento dei propri sensi corrotti droga e disordine di ogni genere signore gesù abbiamo bisogno di te maranata vieni signore manifesta la tua potenza entra nelle case avvicini i cuori degli sposi fondi in un cuor solo un'anima sola e dono tutta la tua chiesa signore di essere generata nella santità nella verità e nell'amore a te gloria onore e potenza per tutti i secoli dei secoli amen e dono signore gesù a tutta la tua chiesa oggi per intercessione della tua santa madre di godere della liberazione di ogni peccato secondo il desiderio di san francesco vergine santissima vergine libata vergine che non si è mai stata toccata dall'ombra di satana ma l'hai schiacciata sotto i tuoi piedi e hai vinto per te e hai vinto per noi con la grazia del padre in gesù cristo oggi accompagna anche ciascuno di noi a questo rinnovamento di vita dono ci di amare come tu ci ami a gesù la loda e la gloria per tutti i secoli dei secoli amen e la grazia del signore oggi fratelli in onda la vostra vita e la gioia di san francesco risuono nei vostri cuori la luce di san alfonso mario degli cuori illumine le vostre menti e rischiare il cammino della vostra vita nella santità amen grazie a tutti